Ehi! Ciao! Hai la combinazione? Bene! Non credevo sarebbe stato così facile convincere il tuo amico a dartela. E questo è il bello del vostro gruppo. Non siete abbastanza spaventati? Abbastanza spaventati? È per questo che nessuno si decida ad arruolarsi nell'esercito. I tuoi amici sono tutti convinti di essere... al sicuro. Credimi, Anna. Nessuno si sente al sicuro. Allora, Jack. Qual è la combinazione? Stavo scherzando.